Allo stadio comunale di Cercola, Giuseppe Piccolo, il Barano si impone 1-0 battendo a domicilio i padroni di casa con una rete di invernini nel secondo tempo. Pronti via sono gli isolani a rendersi pericolosi con l'autore del gol partita che in area prova a metterla in mezzo ma la difesa avversaria si salva in angolo. Al 26esimo ci prova Conte su punizione ma la palla finisce alta. Tre minuti dopo tenta l'azione offensiva il Cercola su calcio d'angolo ma il portiere isolano esce e blocca il pallone in due tempi. Il gioco si spezzetta con diversi falli in campo e il primo tempo infatti termina con diversi gialli distribuiti dal direttore di gara. Nel recupero Cantelli calcia il pallone dalla distanza ma la sfera finisce oltre la traversa. Il primo tempo finisce 0-0. La ripresa si apre con i padroni di casa all'attacco in cerca del vantaggio. Al nono Castaldi si distende su un velenoso tiro di buonocore da fuori area. Il Cercola pressa ma a passare è il Barano al quarto d'ora con un'azione di contropiede chiusa con un destro preciso di invernini sul quale il portiere di casa nulla può. Tre minuti dopo Vitale arriva fino in area piccola ma ancora una volta Castaldi ci mette una pezza. Col passare dei minuti il gioco si spezzetta per i cambi e il Barano acquisisce consapevolezza che la vittoria è vicina riuscendo a difendersi dagli attacchi avversari. Nel finale si accendono gli animi con un parapiglia a bordo campo con l'arbitro che estrae diversi cartellini. A farne le spese sono un dirigente del Cercola, Campese e Matteo Trani. Dopo il secondo giallo a Campese si accendono gli animi con Sarti che si alza dalla panchina dei padroni di casa e inizia a battibeccare con Trani. L'arbitro non si fa pregare e li espelle entrambi. Dopo otto minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Barano espugna il campo del Cercola e conquista tre punti sicuri in attesa del ricorso relativo alla partita con l'oratorio Don Guanella.